Su vieni, non pensarci più, e non fare il timido dai, sorridi tranquillo se puoi, e vai in onda, suddetto fra noi, un trucco leggero qua e là, cos'è che aspettavi un sofà? Andrà tutto bene perché sei molto più sveglio di me. Ben trovati, ritorniamo a parlare ancora una volta di teatro. Ricordate che l'ultima volta che affrontammo il problema cultura in generale, teatro dal vivo, in particolare lirica, prosa, balletto e tante altre cose messe insieme, eravamo un po' preoccupati. Eravamo preoccupati, ed uso il termine proprio eravamo, e ci metto dentro anch'io perché sono molto appassionato di teatro, mi sembrava ingiusto che la cultura ed il teatro, nel caso specifico, avessero un trattamento, secondo me, di secondo ordine, di fronte a tanti altri settori della quotidianità. Ora si è arrivati, come sapete tutti quanti, addirittura al 100% di capienza dei teatri. E quindi abbiamo fatto festa, diciamo, per quello che si riferisce alla prosa, con Gilberto Santini, a quelli giorni fa. Ciao Gilberto, grazie di essere di nuovo ancora con noi. Ciao a te Giovanni. Ormai ogni anno siamo qui per presentare, parlare delle stagioni del teatro gestite dall'AMAT nelle Marche. Quindi abbiamo fatto festa pochi giorni fa con un webinar interessantissimo che ha coinvolto tutti i centri, paesi, città, quello che vuoi, gestiti dall'AMAT. Ne è venuto fuori un incontro con gli amministratori, e non soltanto con gli editori generali, e non soltanto, ed anche con la stampa. Bene, che cosa ne hai dedotto? Entusiasmo da parte di tutti, e fino a che livello arrivava la voglia di riaprire, di dirsi buonasera a 20 centimetri? Ma molto, devo dire che proprio in quell'occasione che dicevi tu, insomma, dove tra l'altro una delle poche cose, non sono tantissime che questa pandemia ci ha regalato, e questo sviluppo tecnologico ci ha consentito di fare appunto questo incontro che dicevi tu con, insomma, 30 amministratori dei comuni delle Marche, altrettanta stampa, insomma, è stato un momento molto interessante, in cui comunque abbiamo ancora una volta testato il grande entusiasmo che c'è. Devo dire che nasce da molte cose. Uno sicuramente, e forse è stato un po' sottovalutato in questi quasi due anni, il teatro è mancato, è mancato molto. Devo dire, ce l'hanno testimoniato tantissimi spettatori, ma anche tanti amministratori si sono trovati poi nel momento in cui non era più possibile dare quella forma appunto a, quella forma non solo di svago, di riflessione, di emozione, di aggregazione anche sociale alla popolazione della propria città, o cittadina o paese, insomma, si è vista la mancanza, una mancanza che ha avuto un rimbombo molto forte, secondo noi. E a questo si è unita la gioia, che devo dire, nel caso delle Marche, quindi anche dell'AMAT, è stata una questione anche nodale. Nel nostro caso il distanziamento in particolare, più che la capienza, ha fatto sì che, insomma, un buon due terzi del nostro patrimonio dei teatri siano stati costretti al silenzio, all'assenza di proposte, mentre invece negli altri casi, appunto, con quelle misure, si è riusciti comunque a fare qualche cosa. Quindi davvero è stata una sorta di festa della liberazione, quella di lunedì 11 ottobre, c'è la possibilità di tornare a fare una proposta e quindi un entusiasmo davvero vivissimo, che poi sto testando, stiamo testando con i colleghi di AMAT assolutamente ogni giorno, perché adesso, sai, alla fine ci siamo reinventati la mezza stagione, su questo abbiamo, ci siamo divertiti, ma adesso poi ripartiranno invece le stagioni, le stagioni 22, da gennaio a maggio indicativamente, quindi stiamo, insomma, stiamo correndo per ottenere questo risultato e devo dire che anche lì c'è tanto entusiasmo e tanta voglia. Delle voci mi sussurrano un tifo quasi calcistico. Beh, guarda, sì, nel senso che i ritmi sono da calcio, stiamo correndo come calcio, perché di fatto abbiamo fatto due stagioni quest'anno, e tra l'altro, vabbè, senza dire che i tempi e i modi sono saltati, però devo dire che grazie a Dio a questa voglia di teatro corrisponde una grande voglia di teatro da parte anche degli artisti, che insomma non ci dimentichiamo che c'è stato un blackout di un intero sistema produttivo, che è quello del teatro in Italia e nelle Marche. C'è tanta voglia invece di tornare, tornare a incontrare il pubblico, incontrarlo in presenza e quindi questa cosa sicuramente faciliterà e stiamo vedendo che ci sono tantissime occasioni. Sarà una gran bella stagione, secondo me. Voi avete lavorato molto, cioè voi avete lavorato sempre, l'abbiamo anche detto l'ultima volta che ci siamo visti insieme, anche nel periodo della pandemia, del Covid, cioè delle chiusure. Voi avete continuato a lavorare, questo chiaramente vi ha tenuto al passo con i tempi e soprattutto anche con la tecnologia. Avete fatto più o meno i conti, o qualcuno l'ha fatto, se non l'AMAT, di quanto il teatro in generale dal vivo abbia perduto, dal punto di vista non soltanto economico e finanziario, ma anche di feedback col pubblico, cioè il ritorno anche a livello culturale. Speriamo di esserci lasciati alle spalle questa brutta bestia su quello che sono i cali, i cali anche dei consumi, ma insomma con i teatri chiusi si parla appunto di cifre sopra il 70%, per quel periodo lì, sono enormi. Non è stato ancora fatto, mi fa sorridere che tu me l'abbia chiesto, perché proprio in questi giorni, in questo periodo, con l'Università di Urbino, con Laura Gemini in particolare, stiamo proprio studiando una forma di monitoraggio del pubblico da questo punto di vista. A livello italiano lo faremo con i circuiti italiani, che sono associati in arti, proprio perché ci va di capire come sta lo spettatore, insomma, che appunto è arrivato. Io devo dire che la sensazione, quindi non un dato come invece quello che emergerà da questo monitoraggio, mi fa dire che sta meglio di quanto non pensiamo, insomma. Anche perché l'emozione del teatro, ce lo dicevamo durante il lockdown, però l'abbiamo rivisto adesso, guarda che adesso comunque è uno dei primi luoghi in cui è entrato il Green Pass dal 6 di agosto, insomma, c'è stata davvero... Insomma, non è stato semplice, bisognava essere molto innamorati per poter scegliere quella cosa. Però la grande affluenza, la grande emozione del pubblico ci fa dire che il pubblico sta meglio e più desideroso di quanto noi non pensassimo. E conferma quello che avevamo immaginato, cioè è stato un momento di forzata distanza tra due amanti, che sono insomma il teatro e il suo pubblico. E una volta che la distanza... L'amore fa giri immensi e poi ritornano. Modugno quando dice che il fuoco spegne la distanza... Sì, esatto, sulla lontananza. Lontananza sai come il vento, no? Dette queste dotte citazioni, adesso ritorniamo. Però credo che anche questo monitoraggio che faremo ci darà anche in numeri il supporto di questo non venir meno, di questa voglia di teatro che non si è sicuramente spenta. Nei giorni scorsi sono andato, è una cosa che per dire che esiste anche una crescita nei genitori verso i giovanissimi piccoli. Sono stato a Roma dove una cara amica presentava un libro su Mario Scaccia, che Michela Zaccaria ha fatto un libro bellissimo su Mario Scaccia, presentato insieme a Pino Strabioli, che è un grande cultore del teatro. Beh, facevano una recita soltanto pomeridiana per i bambini, hanno dovuto aumentare a due reciti. Assolutamente. Questo è importante. Cioè, sono i bambini che vogliono, ma sono i genitori che spingono. La percepite questo desiderio? Assolutamente, soprattutto nelle famiglie. Devo dire che è la cosa che ci aveva stupito tantissimo. Insomma, quando abbiamo fatto le proposte, dopo il primo lockdown, abbiamo fatto delle proposte di teatro ragazzi, anche belle. Devo dire che abbiamo riportato uno degli spettacoli più fantastici che ci sono sul mercato, da te che da vent'anni viene proposto, che è il Circo delle Bolle. Però, anche lì, prima parlavi di tifo da stadio, proprio tifo da stadio. Cioè, abbiamo fatto due sold out in teatri, tra l'altro, è vero che c'era il distanziamento, ma teatri comunque grossi, importanti, come il Teatro Gentile di Fabriano, il Teatro Lauro Rossi di Macerata, insomma, tantissima voglia. E lì devo dire che adesso, infatti, abbiamo rincontrato da poco i sindaci della provincia di Pesaro Urbino, dove c'è un progetto più importante per noi, assieme a quelli curati con l'ATGTP per il Teatro per Ragazzi, che è il nostro Andar per Fiabe, che ripartirà, devo dire, in maniera molto, molto massiccia. E anche lì siamo pronti già a quella pressione, a quel desiderio, che sicuramente andremo a soddisfare. Perché non ci dimentichiamo che io, insomma, io sono ultra 50enne, insomma, e mi sono accorto, mentre c'era il lockdown, mentre c'era questa tragedia che ci scorreva a fianco, di fare molta fatica, però avevo tutti gli strumenti anche per sopportarla in qualche modo, non ho anche gli strumenti culturali. E qui c'è una generazione che parte proprio dai bambini, più generazioni, che hanno vissuto questa strettoia, per cui è una responsabilità ancora di più civile e sociale, quella di offrire delle occasioni che non siano appunto quelle, solo quelle appunto magari di puro svago, ma anche di così, cogliere quella magia, quella fantasia che solo il teatro riesce ad offrire. Noi andiamo nel particolare, però ne abbiamo parlato, diciamo fuori della registrazione, della registrazione, abbiamo avuto modo di parlare che ci sono dei teatri che si sono mostrati addirittura ancora più bisognosi di teatro. In che senso? I teatri qualche volta, cioè recentemente, hanno avuto, qualcuno ha proposto soltanto una recita, qualcuno e due, alcune due. Altri addirittura arrivano a tre o quattro recite. Da che dipende? Cioè, io ricordo che in molti teatri almeno due recite si facevano sempre la cosiddetta doppia recita e adesso pare che pesero, se mi ricordo bene, se ho capito bene, se è una delle città che propone 5 o 6 giorni di... Da gennaio 6, da martedì a domenica. Ma che significa? Ma questo lo fate 6 recite, quindi 6 serate, perché ci sono gli abbonamenti che lo chiedono, e richiedono solo da qui. Sì, sì, perché eravamo arrivati, beh, sai, lì è un meccanismo, come tu sai, è un meccanismo contagioso quello del teatro, nel senso che lì eravamo arrivati prima della pandemia un numero enorme di abbonati, 2.200. Abbiamo voluto dare un segnale con l'amministrazione comunale di ulteriore aperture. 2.200. Abbonati, sì. Adesso arriveremo a offrire però più di 3.000 posti per gli spettatori, proprio perché vogliamo che questo ritorno a teatro sia un ritorno per tutti. Vuol dire 500 abbonati a sera? Sì, sì, sì. Cioè, no, adesso speriamo un pochino di meno così ci sono anche i biglietti. Ah, ecco. Però, sì, ogni spettacolo offrirà comunque 3.000 posti. Beh, diventa un bel caso, perché tieni conto che già adesso abbiamo dovuto aumentare una recita da 4 a 5 perché c'era stata una richiesta incredibile di biglietti. Ma questa è una decisione che, allora, bisogna trovare sempre diciamo il punto di equilibrio economico. Non è facilissimo perché i nostri teatri non sono mai enormi. Gli spettacoli spesso sono insomma quelli più grossi, più impegnativi, creano comunque un doppio disavanzo. Bisogna, devo dire, esercitare quella che noi chiamiamo un'ingegneria organizzativa molto precisa però è un obiettivo importante anche perché comunque anche solo avere una seconda recita nei centri che appunto ce ne sono alcuni insomma importanti, stiamo ragionando in questo senso con città importanti, insomma anche delle marche con grande tradizione teatrale, penso ad esempio a Iesi per esempio. Significa creare un rapporto anche meno occasionale tra artisti e città e poi non dimentichiamo che insomma è un elemento molto importante far permanere in una città una compagnia significa non solo spendere ma anche far guadagnare la città perché questo è un termine anche perché è un indotto poi fra l'arte. Un indotto tra l'altro piuttosto importante perché poi gli artisti quando sono in giro insomma non solo devono mangiare e dormire ma hanno bisogno di una serie di dinamiche per cui è una ricerca devo dire che avevamo fatto qualche anno fa con risultati anche sorprendenti quindi noi tendiamo ad aiutare sicuramente quando c'è una richiesta di pubblico anche perché per non far accadere che il teatro torni alla sua natura condominiale cioè che non siano sempre solo gli stessi a cui vogliamo molto bene e che ringraziamo quindi che erano i proprietari dei palchi dell'affittuario però ci teniamo che il teatro sia uno spazio permeabile quello sicuramente che possa accogliere anche così l'interesse che può nascere man mano faccio una domanda cattiva io sono convinto che tanto non te la prendi allora per i centri che propongono 5 o 6 recite 4 o 3 hai fatto una scelta diversa in confronto cioè migliore più calibrata più ammirata di quella che fai per chi ha soltanto una recita oppure non farci credere no 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 te lo dico perché guarda noi comunque di questo sono sicuro possiamo sbagliare perché non siamo siamo umani però la cura è sempre veramente la stessa nel senso che non quello che portiamo su un palco sappiamo che incontrerà uno spettatore e per me questa cosa qui è una cosa che è il principio poco etico del nostro lavoro anche perché tu sai e i tuoi collaboratori che vivono il territorio sai che cosa vuole al teatro dell'Aquila o ad Ascoli o a Pesaro sono comunque esigenze è vero o no? sì sì questo sono che sono pubblici che hanno caratteristiche diverse è vero sono le marche al plurale del resto in effetti forse anche questo poi sai dipende anche perché il pubblico è uno strano aughello è uno strano organismo perché comunque a volte ti fa tornare qualcosa che non ti aspetti quando gli fai una proposta magari più diversa da pochi giorni si è concluso ad esempio quello che è la nostra punta di diamanti della programmazione che è il festival app Ascoli Piceno Present che da sei anni porta i fermenti più importanti della scena nazionale e internazionale da Ascoli Piceno grazie alla bellezza di quella città che è stata un'invenzione vera e propria nel senso che è nata con il sindaco Castelli poi confermata con Fioravanti con l'assessore Ferretti però una sfida vinta cioè quella che una città così bella così carica di storia potesse poi accogliere davvero i fermenti anche assolutamente iniziali di teatro musica danza quindi insomma sì pubblici tendiamo a guardarli a volte cerchiamo anche di sorprenderli questa è la cosa che ci piace sempre molto però la cura davvero è sempre la stessa questo bisogna nascondere è chiaro che le occasioni insomma quando chiami le compagnie in Italia e le offri una settimana di recite è certo insomma è difficile che qualcuno dica di no senti è prevista qualche residenza cioè hai capito per cui si parte da una città e si fa la prima assoluta perché molte cose saranno anche riprese della stagione che sono saltate ci sono molte riprese però tanti ci stanno chiedendo i nostri meravigliosi teatri che sono amatissimi come abbiamo detto molte volte per residenze di allestimento non è un caso che abbiamo fatto una bella residenza per far partire il nuovo spettacolo di Pierluigi Pizzi ci sarà Pierluigi Pizzi con un nuovo progetto molto bello sempre nelle Marche Residenza in debutto in prima assoluta ce ne sono varie Orsini e Bracciaroli ho detto qualcosa è sbagliato allora diciamo anche la data tanto sappiamo tutto perché è stato detto ma Orsini e Bracciaroli abbiamo proprio lo spettacolo di cui accennavamo che sarà in prova a Fano che condividerà poi gli esiti dello spettacolo proprio col teatro pergolesi di Iesi lo spettacolo devo dire insomma bisogna correre a vederlo perché hanno scelto è in francese? no il titolo è in francese che è pour un oui ou pour un non per un sì o per un no ma devo dire è una commedia incredibile che quando alla lettura capisci che ha bisogno di due grandissimi interpreti e devo dire il ritorno in scena come è successo una volta sola per uno splendido hotello di due mostri sacri della nostra scena ma anche della scena internazionale perché parliamo di due attori che hanno segnato davvero insomma il teatro come Umberto Orsini e Franco Bracciaroli con la regia insomma lucida acuta di uno come per Luigi Pizzi io sono curiosissimo perché il testo fa veramente morire da ridere perché non si capisce bene di che cosa si parli sono questi due amici che insomma è il testo giusto per questi tempi perché c'è leggerezza ma anche la profondità di un'arte teatrale totalmente sapiente come quella appunto delle persone che lo animeranno e agli essi si vedrà intorno alla fine di novembre poi ne parleremo anche a sì sono abbastanza vicini sono vicini ma comunque questo sarà al di fuori della stagione che inizierà a gennaio insomma come da tutte le parti e dicevamo le riprese che ci sono per il resto tu apri il Deplian con tutti i lavori che vengono le opere i lavori che vengono proposti cosa prevale il drammatico il leggero qual è la prevalenza secondo te questo è un tema molto forte su cui anche noi ci stiamo molto interrogando e devo dire abbiamo anche visioni diverse ma va bene anche all'interno di Amat nel senso che diciamo la volgata più corrente è che dopo quello che ci è successo serva leggerezza io penso una cosa un pochino diversa non sono cioè non sono un talebano però penso che ci sia bisogno di senso di grande senso insomma e quindi sì va benissimo al di là del divertimento o meno che però non possiamo esimerci da qualche cosa che dia qualche cosa in più a chi va a vederlo un pensiero in più una gioia in più e soprattutto non lasci il sapore di un appuntamento mancato per cui la cosa non mi preoccupa tanto ad esempio stiamo cercando proprio in questo momento occasioni per accogliere uno spettacolo come il Rellier di Shakespeare con un grandissimo gigantesco Glauco Mauri per esempio insomma non mi spaventa tra l'altro mi pare che stia lavorando proprio sul discorso di Rellier quindi sì 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 perché è uno spettacolo che tornerà tornerà in in tournée ecco la cosa importante è come sempre non far perdere il più giovane è un attore marchigiano anche italiano probabilmente ora è anche più vecchio di Glauco di Orsini sì 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 perché è a 91 92 91 credo però ecco il tema insomma il tema che sta correndo di più è quello di divertirsi io dico divertiamoci ma ridiamo al teatro il suo specifico che possiamo trovare anche in capolavori del passato come troiani o come un testo contemporaneo insomma ad esempio ripartiremo con uno spettacolo che io ho amato tantissimo che speriamo di far vedere il più possibile che è giusto La fine del mondo di Lagars che è un testo che io ho trovato stupendo da cui Xavier Dolan ha tratto il suo film omonimo ecco è uno spettacolo molto ben recitato un testo molto intelligente sulla crisi di una famiglia insomma credo che in questo momento ci sia bisogno ma è come adesso lo specchio del teatro ci deve far capire che cosa ci è accaduto insomma teatro bisogna celebrarlo noi e non che si autocelebri con e per fortuna piangendo no deve riprendere da dove secondo me dal mio punto di vista dove era come Tortora dove eravamo rimasti e riprendi la tua via normale con una consapevolezza in più di cui si vedranno i segni perché dico mi sono accorto sto vedendo tantissimo teatro sto girando tantissimo e sto vedendo tantissimo proprio perché appunto è la fase di programmazione e vedo insomma vedere uno spettacolo adesso dopo quello che ci è successo dà una consapevolezza in più insomma una coscienza diversa e questo penso al nuovo di Emma Dante che lo stesso vorremmo portare insomma nelle Marche ovviamente sì 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 nelle Marche vorremmo portarlo ma con lei no 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 lei ha messo solo regia con uno spettacolo devo dire clamoroso che ha triunfato quest'estate al Festival di Avignone siamo molto contenti tra l'altro perché Emma a questo punto è siculo marchigiana perché l'abbiamo adottata col premio Morriconi oltre ad averla adottata insomma in tutti questi anni ecco un coro spettacolo lì dove al centro c'è il tema della solitudine e il resto però io ho visto delle grandi commozioni al teatro di Pompei dove l'ho visto perché comunque abbiamo bisogno di qualche cosa che assomiglia anche a quello che abbiamo vissuto per quella catarsi che non a caso i greci identificavano come il principio proprio terapeutico del teatro oggi il teatro come dicevamo prima nasce dalla scuola e cresce crescono anche le scuole di teatro mi hanno detto che recentemente ci sono anche giovani che vanno diciamo dai 18 anni in su forse anche meno che frequentano scuole di teatro che cosa è secondo te il frequentare vuol dire imparare soltanto a recitare o è un qualcosa per sublimarsi o qualcosa per uscire da una crisi di identità dovuto anche al covid per esempio potrebbe essere secondo me o un'analisi sbagliata secondo me c'entra ragione nel senso che comunque il teatro ti consente di manifestarti io vedo noi facciamo seguo anch'io insomma in prima persona questo laboratorio teatrale da quasi 13 anni alla comunità la comunità di recupero che c'è a Pesaro dove comunque i ragazzi si rivelano si raccontano e si capiscono attraverso il teatro e lì ti accorgi che è un principio terapeutico vero e proprio però quello che dici tu è così io mi accorgo che insomma dopo aver scoperto il teatro da ragazzino il secondo desiderio è quello di salire sul palcoscenico per poi capire come è successo nel mio caso che ti interessa stare tra scena e platea però capisci che è uno strumento che può rivelarti a te stesso questa è la cosa più importante del teatro e perciò io vedo questo fiorire come una cosa assolutamente positiva certo si tratta di trovare i didatti bravi questo insomma i docenti bravi le professioni bravi ma ci sono tanti professionisti che sicuramente possono offrire la loro esperienza un altro paio di domande abbiamo parlato di Orsini di Branceroli di Clauco Mauri che appartengono non ce ne voglia Branceroli che è il più giovane di tutti ma appartengono a un'altra generazione di teatro è un'altra tradizione oggi c'è meno divismo probabilmente di quel periodo lì qual è secondo te l'attore e l'attrice quali sono o l'attore o l'attrice che potrebbero essere la punta di diamante oggi il rompigliaccio per entrare e far entrare emotivamente anche la platea nell'amore per il teatro ma insomma ci sono molti travasi anche tra cinema televisione di persone anche molto brave secondo me è un caso unico perché comunque poi in Italia quando fai teatro non sei tanto conosciuto poi basta che becchi qualcosa in televisione in particolare purtroppo un caso importante è quello di Lino Guanciale per esempio che è un grande nostro amico che è esploso poi con le fiction e il resto ma insomma era un attore che aveva lavorato veramente con ha fatto lo stupendo protagonista con Massimo Popolizzi e ragazzi di vita di Pasolini proprio un attore teatrale con un DNA teatrale a 360 gradi assolutamente quelle figure lì sono molto utili quelle figure dove una popolarità conduce poi lo spettatore a conoscere una sapienza teatrale più faticoso più pericoloso è quando la popolarità si ferma lì nel senso quando poi lo specifico teatrale viene disatteso su questo noi ci divertiamo anche molto a vedere a dare chance a tutti per esempio adesso ci è piaciuto molto lo spettacolo che di un nome che aveva così lasciato un po' freddi all'inizio come quello di Martina Colombari perché non la conosce per altre cose che uno pensa a pubblicità a tante cose qualche volta c'è un ritorno d'immagine sbagliata alla televisione invece devo dire lo faremo vedere parecchio lo spettacolo perché è una commedia elegantissima intelligente con Corrado Tedeschi co-protagonista diretto da quello che è stato il più grande assistente di Luca Ronconi per intenderci quindi una commedia leggera intelligente ma molto profonda con un testo tra l'altro con un bel ribaltamento finale dove un'attrice così alla fine porta acqua al mulino del teatro perché le attira magari per la curiosità per il gossip e per il resto e poi si scopre una professionista che ha fatto un percorso molto interessante come sta facendo ad esempio Ambrangiolini a cui offriamo spessissimo i nostri palcoscenici l'ultimo spettacolo lei da sola il monologo la mia serie della scomparsa di V ma anche questo ultimo sul bullismo è un progetto molto serio quello che io soffro sempre mi piacerebbe che anche certi attrici certi attori di teatro oppure che sono grandissimi che se fossero nati in Inghilterra sarebbero stati Lady o Baronetti mi piacerebbe ecco che acquisissimo proprio un canone teatrale penso alle attrici come Anna Bonaiuto penso a Laura Marinoni insomma delle attrici o degli attori che quando li vedi dici oddio ma questo veramente è il teatro quello che succedeva un po' succedeva parecchio con Mariangela Melato tu non vedevi quell'attrice lì e dicevi oddio ma che cos'è era un'epifania adesso io poi lo sai che l'ho raccontato te l'ho raccontato per me è accaduto con la Medea al teatro Bergoglisi di Iesi però vedevi una cosa che era unica la Medea per me è stata una delle cose più belle che abbia fatto vertiginosa poi tu vedi che fa la Medea e poi la vedi in sola me ne va per la città che canta e dici ma vedi un personaggio del genere ecco questo quello è teatro cioè quello è un mito ecco lì ce ne sono tanti anche tra i giovani quello che mi dispiace è che a volte si fa fatica a farli vedere però la cosa interessante questa sta anche nella responsabilità nostra dico degli assessori degli operatori come noi di dare spazio anche a cose che non conosciamo che però hanno una grandissima forza guarda proprio in questo festival di Ascoli Piccera abbiamo fatto debuttare in prima assoluta un giovane regista e due giovani interpreti marchigiani che sono Giacomo Liliu e Matteo Principi con questo lavoro molto intelligente che è Teoria della classe disagiata scritto con un grande acume da Sonia Antinori devo dire che lo spettacolo che ha sbigottito tutti nessuno li conosceva però alla fine è il testo di Sonia? è di Sonia molto bello devo dire però alla fine quasi che gli chiedevano gli autografi perché poi si sono accorti che appunto due giovanissimi potevano apportare qualcosa alla nostra consapevolezza come in quel caso dove il testo appunto Teoria della classe disagiata racconta proprio le difficoltà e le inquietudini di una generazione staremo a chiacchierare anche perché poi parleremo di teatro di tutta la regione tu sei più teatrante di me capito? tu ogni volta fai sempre cose invece lui lui è il vero teatrante perché quello che conosce e ama il teatro ma è anche io una cosa però te la chiedo alla fine qual è il lavoro che avresti voluto portare che qualcuno o ti ha fregato o non sei riuscito a portare qui nella stagione di quest'anno sincero? quest'anno ancora ci abbiamo un po' di armi al nostro no ma qualche altra cosa che magari avresti detto questa sarebbe la più adattiva questa è la migliore per le marche non c'è quindi quello che presenti è il massimo secondo te beh no devo dire no no succede succede nel senso che ad esempio tante volte ci sono ragioni di budget spesso incastri strani di date che non ci fanno avere tutto quello che avremmo voluto ma un pensierino l'avevi fatto su? ma no a me è dispiaciuto ad esempio del periodo covid che alcuni spettacoli importanti ad esempio quello che mi è più dispiaciuto non aver portato è stato il nemico del popolo con la regia di Popolizia che era un grandissimo spettacolo che purtroppo non potremmo rivedere che era annunciato in due teatri nostri importanti però insomma è una produzione che è naufragata ci sono tanti detriti dei due anni di covid in giro però ripeto sono sicuro che la stagione che poi di qui a un mesetto un mesetto e mezzo andremo a presentare sarà piena di cose belle quindi c'è tanta voglia anche da parte degli artisti ad esempio una cosa che posso dire non ti dirò dove va però che la porteremo avevo amato moltissimo una scelta che era sembrata ardita di Virginia Raffaele che è una grandissima performer proprio grandissima fa fare tutto sì in scena è veramente incredibile aveva scelto poco prima del covid di farsi dirigere da Federico Tiezzi quindi magazzini insomma quindi due storie teatrali molto diverse lo spettacolo era veramente molto importante e se è rimasti lì lì l'avevamo appunto bloccato non siamo riusciti invece adesso siamo riusciti a recuperarlo e quindi quindi no sarà una bella stagione per i terri marchigiani insomma io ringrazio Gilberto Santini che mi sopporta tutte le volte che le incontro ma posso sempre dire che citando un vecchio teatrante degli anni 30 diciamo così che direva che con lui sicuramente con l'amante il teatro diventerà più grande e più possente che Priè grazie un bel augurio alla prossima volta su vieni non pensarci più e non fare il timido dai sorridi tranquillo se puoi e vai in onda suddetto fra noi un trucco leggero qua e là cos'è che aspettavi un sofà andrà tutto bene perché sei molto più sveglio di me di me Grazie a tutti